ciao e buongiorno a tutti sono leonardo caffo ed è questo è il terzo anno che insegno al mail program all'accademia di belle arti di siracusa un'accademia veramente eccezionale che si muove su una caratura di docenti di percorsi di studio per quel che mi riguarda davvero internazionali e che non ha nulla da invidiare a molte delle cosiddette accademie top di fine arts e design in giro per il mondo normalmente svolgo la mia attività tra milano e torino tra il politecnico e la naba eppure posso tranquillamente dire che il posto in cui riesco a conciliare il più possibile i miei interessi di ricerca filosofici orientati al progetto e alla teoria della progettazione è sicuramente il mail program questo capita per la grande versatilità dell'università che permette una delle classi molto compatte la possibilità di lavorare insieme trattorie pratica con i laboratori con delle aule attrezzate e con la grandissima risorsa di essere in uno dei luoghi più belli e incantevoli del mondo l'isola di ortigia che diventa sempre nei miei corsi uno dei grandi movimenti attraverso il quale osservare la contemporaneità il primo vero grande corso che ho fatto insieme a un'amica architetta che mi ha aiutato ed è stata assistente mia dei ragazzi quell'anno è cabin out ed è stato un progetto orientato alla costruzione all'individuazione di dei siti dell'isola di ortigia per lavorare sul concetto di capanna ne abbiamo costruite quattro abbiamo fatto una grande mostra ma abbiamo anche lavorato sulla filosofia di witte stein di toro sull'architetto le corbusier su la complicatissima figura di teodor kasischi anche noto come una bomba abbiamo fatto una festa un'inaugurazione sono uscite sui giornali le pratiche di curatorialità di quell'anno dalla sicilia dal tribun e poi quest'anno accademico cioè a dicembre passato abbiamo fatto un corso tutto orientato al concetto di gioco che era una specie di back to gioventù in cui abbiamo realizzato un gioco da tavola il cui il piano simbolico era quello dell'isola di ortigia ma in cui ogni luogo non era il luogo che era ma il concetto che rappresentava l'amore il primo bacio io dicendo ma è sempre ragionando su grandi filosofi che poi siamo andati a rappresentare nella pratica del design abbiamo preso agamben abbiamo preso walter benjamin abbiamo lavorato su italo calvino abbiamo lavorato su pierpaolo pasolini e poi abbiamo trasformato ed è questo il senso di eco design e di estetica i due corsi che io intreccio grazie alle intuizioni di alessandro montelli il direttore dell'accademia anche di forma fantasma che dirigono il bachelor in design è quello di fare una specie di overlap tra teoria un collasso tra la teoria e la pratica e selezionare un corso da questi corsi come sempre io scrivo anche dei libri che usciranno adesso il made per me è una grande accademia di ricerca è anche l'unico luogo in cui spesso gli insegnanti che vengono da fuori come me sono dei visiting professor reali dormono all'interno dell'accademia comunicano 24 ore su 24 con i ragazzi luogo eccezionale che riporta la sicilia ad essere il centro del mondo e quest'anno se riusciremo a fare il corso tradizionale ma anche se lo dovessimo fare online io tornerò a fare il mio corso intensivo a dicembre e probabilmente ragioneremo su un altro concetto che sarà il concetto della nascita che cosa significa una nuova vita una nuova specie una nuova entità che nasce e in che modo il design e la realizzazione degli oggetti deve relazionarsi costantemente al concetto di novità grazie a tutti